oggi ha perso il mio compagno dove sei andato sempre dritto sempre dritto dopo che ho girato la visuale per cercarti oddio no perfetto vabbè comunque riguardo a poi non dovevo dirti che è la che sto girando intorno ma è giusto cattivo ma è meglio così prenderà uno di targhi e per l'altro prenderà tutti voi ma la ricerca di fogli da solo tanto oggi ne troverò di nuovo lucio allora comunque dai specifico all'orario di registrazione stiamo registrando a mezzanotte e mezzanotte in america siamo in italia luna di pranzo luna di pranzo luna di pranzo luna di pranzo è una delle fasce lunatiche sto crepando diciamo ma prima o poi ti ritroverò sto crepando di fame e non sono su minecraft allora 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 trovato con niente ma c'è poi o no non resistenza primo di avere lupia con la sera appena e sciolupo già me lo immagino oggi ho trovato un foglio mi senti bene vero si si sento bene ho trovato un foglio perché questa torcia rimane ferma mentre io giro la testa ho trovato il foglio è un carro armato un carro armato è un carro armato un carro armato allora le statue sono arrivato dall'estate oddio come si raccolgono i fogli prima il tasto sinistro non hai mai raccolto un foglio noi siamo già due e a trovarlo il foglio vai per la vicino ok i dubbi che ci danno prima c'era non c'è nessuno non c'è nessun lupo no no nooo devo scappare prendi il foglio quello devi scappare e ho capito c'è il lupo alle spalle non mi interessa prendi il foglio giustamente prendi il foglio è di cattivo però comunque stavi dicendo sui pokemon ah si che tipo aspetterò che esca in italiano per continuare ho ritrovato il muretto dell'altra volta un tono manco io perciò stato e sono totalmente inetto in questo gioco lo ritrovate ma non e c'è il lupo mi sparo e su trova quel modo momento lago momento l'altra tara tara io sono andato verso le belle montagne a prendere il terzo se tu riesci a girato tutte le state non c'è nessun foglio c'è il foglio c'è abbiamo preso l'altra volta ecco nel 5 a prenderlo momenti di saspenso primo mit mit questo vuole mangiare vai su premio ok sono pro solo però ma io sono andato verso le montagne a prendere il terzo bene siamo già qua da due segnali che a casa mi hanno rotto qualcosa oh nooo oh è un altro foglio eccolo alle elezioni ma io ho più una devine la retta lontanato scopo della serie fa di conoscere tutti e 11 e finchè non troviamo un foglio di camera pelli che non troviamo più unibu quindi faremo i visori finchè non ne proveremo tutti e questo sarà l'ultimo episodio siamo abbiamo certo la boccata signor la boccata Siamo già a tre, non sei mai arrivato Forse la tecnica di divisore Se qualcosa di utile Io non ho ancora trovato il lu Io ne ho trovato uno Ma non mi hai inseguito stranamente Perché sono provato A luce spenta Hai messo il diff... Oh, quarto foglio Ale Ok, sono arrivato su È una giostra Mi sa che forse ci siamo trovati Una mano Questa è una cosa enorme È una pale... È un aereo Sì, me l'ho preso già io l'aereo No, no, forse no Vedi, dira No, io ho trovato alcun armato No, non l'hai preso Non l'hai preso, sono provi Lo prendi, lo prendi Mamma mia, siamo a 5 Che schifo che è I like blood Oddio, stiamo procedendo Spediti Ma è successo Voi non lo sapete Ma c'è Alberto Che sta citando come cani Sì, sì No, il muretto Oh, no, ecco il primo lupo Taramete Ecco il primo lupo Zan, 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 zan E dalle montagne l'hai preso? Sì, l'ombretto l'ho preso Però me le posso andare Che direzione? Vado in direzione al nord rispetto a... Oddio, ecco l'altro foglio Davvero? Sì Riuscissi a correre Dai, proprio ora Oddio, eh Tipo, le casse Sì, sono le casse Ah, le casse No, no, sono casse strane, però Camion tipo, pochia, che è? Oddio, dove lo vedi? Oddio, c'è nuovo, c'è nuovo Oddio, oddio, ho visto gli occhi di Ledi Ledi, oddio, no Oh, 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 occhi di Gatto Sì, però io non riesco più a vedere il foglio È qui, ma non lo vedo Gatto tossico, tra l'altro Perché per avere quegli occhi ce ne vuole E dai, era qui il foglio L'ho visto da lontano Fa notare che io me la sto facendo tutta a piedi Senza correre Perché giustamente Non voglio sprecare la resistenza Per quando troverò il foglio Eccolo Ehm We will die Un po' diremo Sì, sì, certo Cioè, convinto Convinzione Siamo a 6 Record Abbiamo già preso la maggior parte dei folli Momenti di record Siamo preso la metà Stiamo pureggiando Dai, comunque Dopo Penso che faremo I loghi online Oddio, muretto Appena per pollo Riuscirò a facciarlo Ok, sì Devo scaricare anche le facce Per il loghi online Ah, il muretto ci sono pure io Sì, bisogna vedere quale Quale dei Quale dei muretti Ci sono quattro muretti In tutta la propria Allora io ho molta esperienza con i muretti Eh, infatti mi so trovato il lungo davanti Guardate la puntata prima Dove dice Ah, c'è un lungo attraverso il muro Lo attraversa Ah, tranquillo No, di fronte Comunque allora Se riusciamo In casi davvero Corribili Di trovare Tutti e 11 fogli L'obiettivo sarà Un cedro un lupo Sarà trovarci Vabbè, penso però Che appena ritroveremo L'ultimo di finirà Riuscirà tipo You are the winner È finita comunque La fortuna Mi sa che io non ne sto trovando Io ora Ora Oddio Un minuto fa Due ne ho trovato il stesso Quindi Quindi a quanti siamo Io ne ho trovato Quattro Due Ma dai È sempre scarso È già molto più di quanto Abbiamo fatto Ma questa torce L'hanno comprata All'Ikea Non illumina niente Ci danno Tra gli alberi Pensione Messi Della foresta Altro muretto Messi Della foresta Tutti sono bravi A dribblare Gli alberi Ma non con lo stile In cui lo facciai Vabbè Immagino Quanto mi piacciono Corri piccolo Edi Corri Anzi piccolo Bob Moment 8 minuti Dell'altro video Ecco Fida esistenza Motesciolo Tanta 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 Inizia da ballare No Disco World I'm sexy World Come fanno i lupi Rob Basta E' comunque Siamo tornati Su Survivors Dopo due settimane Che non facevamo video Tipo Da vero Sì Era così Perché è iniziata la scuola Allora Sì Siamo impegnati Per le prime impressioni Superessori Dobbiamo prendere Almeno i primi 4 Dopo un anno Passato a prendere Uno Uno e mezzo Siamo i primi 4 Soprattutto Io che cambiavo tutti i professori Devo far capire già Che vado male Ma non posso Oh no La più pallida idea Di dove devo andare Ah Questi muretti Comunque il lupo Non mi sta Ma ho tornato alle statue Che rottura Hai preso alle statue Sì Dobbiamo che qua c'è un lupo Perché la fortuna è finita Non stiamo trovando più voi Ah tu lo sai che più tempo giochi Più aumento Le probabilità Che il lupo ti uccida Vero Davvero Sì Ci vuole un altro video Quanti ha durato 20 Eh scientificamente provato Dai dermatologi Hai idee No vabbè Spero Hai provato Basta Perché manca sempre La resistenza In momenti Così critici Hai visto qualche altro lupo No Ma se magari Mo giro l'angolo E trovassi La lupa romana Trovassi La lupa capitolina Ah Alla terresti Eccolo E voglio Ah lei Dove stava Ci sono tipo dei Hai presente Oddio come te lo spiego Quelle cose che mettono sotto Tipo le scu... No vabbè Votole We can't sleep Non possiamo dormire Grazie Ok ho spento la torcia Ok ho spento la torcia Non succede Ok Viamo a se Vogliamo raccontare Come vuoi Come vuoi L'hai caricato Per vedere come fosse L'hd E me lo carica E non me lo da Perché giustamente Era troppo lungo Allora cosa faccio Sblocco Specifico Specifico Il tempo di caricamento Blocco Il tempo di caricamento Tipo 9 Alla gelateria Comunque 9-10 ore E beh Basta Allora 9-10 ore Perché sono babbuzziente Allora E poi dopo Per caricare Per riprovarci dopo Tra ADSL Che si spegnevano Per non so quale Volere di satana E E altro Che non sto qui a snocciolare Ma il video è arrivato in lina Dopo due settimane O una Quante No Stavamo stati 5 giorni Ah ma Sbaglio Ho letto male O stiamo a A 9 di 11 No Siamo 8 Non sarebbe stato troppo bello Eh comunque Eh Lupo 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 Luce Luce Lupo Luce Lupo Luce Lupo No Muretto Tipo Non posso Passare attraverso L'altra parte Del muretto Dai che Andrà già Ora sul silver Sì Comunque Qualcuno di voi Che sta Guardando il video Cioè Tobia Belluta Ciao Belluta No 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 Bella Alberto Che è successo Dovina Sei morto Sì Perché Ce l'avevo Le spalle Non avevo resistenza Mi mancavano Solo tre Oddio Che è Stavo Che le preso No Eccolo Oh Sì Ciao ciao Oddio dove sta andando La torcia Ho spento la torcia Ok Ai Devo trovare Solo due Lupo Non mi rovinerai Questo giorno Magnifico Cambiamo un po' Scopriamo Cambiamo Cambiamo Maggia Questo significa che tu eri qui target Avendoli killato ora prenderà di target visto me Beh giustamente chi vuoi che prenda come target gli alberi Dobbiamo mettere un terzo Fk Perché sia il target per tutta la partita Però però verrà killato dopo due secondi non ci ho pensato Quindi siamo a cota 9 Sì siamo a cota 9 E gli altri due non ricordo come stanno Mi sa che gli altri due lo sai quali mancano E mancano Quello delle casse E poi E poi quale può mancare Eccolo Sì ora vedrai che ci sarà la lotta Contra il lupo a girare l'angolo Mi conoscevo il lupo Dai corri Ehi non mollare proprio ora corri Bob lo gesta tutto Dai Usa quella che è inglese Ma cacchi si Mettere pressione Sì tanto l'abbiamo letto in un altro video Sì c'ho Tu lo sai Oddio mio Oddio Manca uno Ok ne manca uno A dieci siamo Sì Alberto 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 la burba no Deco Ma se vado a morire a dieci Comunque ce l'hai ancora alle spalle Oddio Oddio Ce l'hai da Che gupatona Non l'ho mai visto Ben Non l'ho mai visto Non l'ho mai visto E ciò significa che continueremo a lungo La terria non finirà mai Ok hai tirato una capocciata al computer? Sì Fai bene Poi ne mancava uno Stavo per diventare un unico E non grazie Ora andrò a piangere Nel mio angolino della tristezza Angolino Sto per video Saluta Bacio al lupo Mi ha rovinato la vita Mi fa il rubo Il rubo Ruuu 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 Ruuu